La ministra per le politiche giovanile Fabiana Dadone. Grazie, grazie per averci raggiunto, sappiamo che ha impegni di corsista, grazie mille. Grazie a voi, anzi sono contenta di essere qui, ci tenevo ad essere all'apertura di questa manifestazione che è splendida sia perché rappresenta, come ben è stato ricordato, un piccolo pezzo di ripartenza che non va dato per scontato, perché è vero che i percorsi sono separati, sono distanziati, che in parte è ibrido, ma è altrettanto vero che rappresenta una grande possibilità, soprattutto per le start up, come dicevamo prima, di potersi confrontare tra di loro all'interno dell'ambito di una maniera. La manifestazione che ormai è consolidata e rappresenta davvero una porta in termini di innovazioni, anche per il confronto tra le start up, che io tendo a non dare per scontato, perché forse quest'anno e mezzo di pandemia ci ha visti troppo chiusi all'interno, chiaramente per le necessità di distanziamento all'interno ognuno della propria bolla di interesse e di lavoro. E invece riuscire ad avere una manifestazione come questa che permette ai ragazzi di vedere ciò che le altre start up fanno, di confrontarsi e di riuscire anche a scambiarsi in termini di esperienze, quelle che possono essere dei valori aggiunti, credo che possa dare tantissimo non solo in termini umani ma anche di sviluppo. Poi ci abbiamo ottenuto in particolare qui all'interno della manifestazione a cofinanziare un piccolissimo contest musicale che può essere utile. Molto piccolo, una compartecipazione piccola simbolica però per noi importante perché si connetterà con la carta nazionale dei giovani che offrirà una serie di servizi e agevolazioni per i ragazzi, però l'idea, visto che c'era un panel dedicato proprio alle innovazioni musicali, a quanto l'errore possa condurre verso una novità che poi diventa da lì un nuovo genere o un nuovo modo di creare musica, questo potesse essere qualcosa di molto positivo anche nell'ottica del fatto che c'è stato sempre rappresentato il fatto che i ragazzi hanno subito molto la fase del disagio, la separazione e avessero necessità di provare a sperimentare. Io ho una grandissima passione per la musica per cui ho unito l'utile al divertentevole. Ma posso chiederle anche che genere? Sì, come ho noto, sono un'appassionata di musica metal. Davvero? Hai capito? Dopo avevo sicuramente una maruletta sul rap però non so, ci organizzeremo. No, ho detto che i metallari ci hanno provato ma per quest'anno ancora no, tenteremo la prossima edizione se è possibile. Ci impegneremo allora. Va bene, grazie. Grazie a lei. No, sono io che faccio un augurio a tutti di buona fiera, di buon ritorno alla normalità anche se reinventata, soprattutto per questa nuova modalità ibrida. Sapere che anche una fiera come questa dell'innovazione ha trovato un modo innovativo per riuscire a ripresentare, a rapportare tutto ciò che viene fatto dalle start-up penso che sia qualcosa di incredibile. E che qualcosa allora di positivo forse la pandemia l'ha portato, che è stato questo. Grazie. Grazie mille, mi sa. Grazie.